Cari amici spettatori, benvenuti, siamo di nuovo qui dallo studio Astronave del gruppo editoriale Distante e oggi sale a bordo l'uomo dei due mondi. Lui lo sa, io l'ho sempre chiamato così, uno dei pochi difensori pugliesi ad aver militato sia nel Bari che nel Lecce e nell'avere soltanto amici in entrambe le città. Questo vuol dire grande professionalità, grande attaccamento alla maglia e lasciatemelo dire da uno che il difensore l'avrebbe voluto fare in carriera, grande grande talento. Diamo il benvenuto ad un amico, diamo il benvenuto a Gigi Garzia, benvenuto Gigi! Grazie, è un piacere enorme. Come stai Alviso? Io sto bene e ti noto ogni volta, come Benjamin Button è tipico di chi è passato da Bari, vanno migliorando con l'età. C'è chi va peggiorando e c'è chi va migliorando. Ora, non voglio farmi dei nemici, ma l'unico che è peggiorato è Gerson, lo dico ad ogni puntata, ma è la verità. Diciamo che si è lasciato un po' andare. Sì, è l'unico, noi lo salutiamo con affetto, l'abbiamo anche avuto come ospite, lui è uno che ama scherzare. Gigi, prima di tutto ti faccio i complimenti per l'arredamento di casa, perché noto qualcosa di Salentino, cioè delle bellissime volte a stella, ma anche una capacità d'arredamento minimal, ma veramente veramente bella. Sì, è una vecchia masseria ristrutturata, è qui nel Salento a 5 km da Lecce a San Cesario, e mi diletto perché mi piace. Da quando ho smesso di giocare mi è venuta la passione per l'arte, non so come, ma mi è venuta, e quindi mi piace scoprire dei quadri, oggettistica, mobili. Quello dietro è bellissimo, quello dietro è bellissimo, eh? Sì, sì, posso dire che è un bellissimo quadro, almeno. Adesso non posso fartela vedere, ma ho la casa piena di quadro, perché è diventata la mia passione oramai. Tra l'altro notiamo il fatto che tu abbia fatto una cosa che piace tanto anche alla mia mamma, cioè il tuffo a vista. Sì, ci sono delle, beh, una caratteristica, no? Delle volte a stella. Io ho lasciato un pochettino, ho intonacato quasi tutto, però è bello vedere ogni tanto dei pezzi di pietra, no? Che poi è la nostra caratteristica leccese, la vecchia pietra leccese. pietra viva. Allora, Gigi, andiamo al dunque, cerchiamo di raccontare di come tu quest'anno hai festeggiato due volte. Potresti aver festeggiato anche per il Toro, perché hai militato anche nel Torino ed è stato uno splendido campionato, però la gioia nel vedere il tuo Bari promosso al primo colpo e nel vedere il tuo Lecce nuovamente in Serie A, io penso che un giocatore come te, che ha dato l'anima per entrambe le squadre, sia sicuramente felice. Sì, beh, è chiaro, il Lecce poi ha fatto una cosa straordinaria, nel senso che in un anno è riuscito a compiere due promozioni, quindi dalla C fino alla Serie A. Lo stesso vale per il Bari, questo ha dimostrazione che comunque alla base ci sono grosse società che comunque hanno gestito bene e che poi io ripeto sempre che alla base delle grosse squadre ci sono sempre le società. Se tu hai una società forte alle spalle, competente, i risultati prima o poi arrivano. E quest'anno è capitato sia con il Lecce che nessuno si aspettava poi. E che con il Bari, che è chiaro che tutti sapevamo e speravamo che vincesse questo campionato, ma era una delle protagoniste, assoluto. A differenza del Lecce che nessuno magari immaginava questo doppio salto. Anche perché dietro abbiamo un bellissimo quadro con dei fiori che sbocciano, il Bari è sbocciato prima ancora che iniziasse il campionato, fuori categoria. Una squadra straordinaria e lasciamelo dire, un tifo straordinario. Mai registrati tanti spettatori in Serie D ed è un primato non solo del Bari, sicuramente al sud del Bari, ma abbiamo visto le stesse cose a Cesena, abbiamo visto le stesse cose in piazze dove il calcio onestamente merita almeno la Serie Cadetta. Per il Bari la Serie A. Le ha citate te queste squadre, ma queste sono città dove hanno vissuto il calcio di Serie A, quindi ai massimi livelli. Tu mi dicevi i pienoni solo in Serie D, ma nemmeno in Serie B o in Lega Pro addirittura hanno il tifo, la capienza dello stadio di Bari. Per me non è una sorpresa, per noi pugliesi non è una sorpresa, magari per molti lo è stato, però conoscendo la piazza e la città di Bari non mi ha meravigliato assolutamente. Ricordiamo che in alcuni momenti della stagione può sembrare ridicolo, ma è così. Una squadra di Serie A che è terminata al secondo posto, il Napoli, ha avuto meno spettatori che nelle giornate di pienone in Serie D del Bari. Ci sono state delle giornate così. E questo è un complimento naturalmente ai tifosi e supporter del Bari. Fermo restando che anche il San Paolo quando è pieno fa letteralmente paura. Gigi, tu hai vissuto delle annate meravigliose a Bari come a Lecce. Quando hai letto, me lo devi dire col massimo del cuore di capitano, carismatico, di giocatore forte che si faceva sentire, ma nel momento in cui è affondata la nave Bari, un calciatore come te che ha dato l'anima per questa maglia, per questa squadra, cosa ha pensato? Pensi che realmente i giocatori avessero in qualche modo subodorato qualcosa? Pensi che sia stato un fulminaccio il sereno? È stata veramente un'annata incubo quella del fallimento e ancora oggi tardano ad arrivare delle notizie. Non si capisce ancora nulla. Adesso comunque il Bari è in buone mani, assolutamente. Magari se tutte le società avessero alle spalle una società come De Laurenti. Ripeto, il Bari adesso come adesso deve stare solamente tranquillo, perché il campionato di Lega Pro non è facile. Sicuramente non si vedranno i trascorsi passati negativi assolutamente. In quel caso, quella domanda che mi ha fatto, i giocatori lo sanno nel momento in cui sta succedendo qualcosa in società, però cercano comunque di nascondere la cosa, di non farla pesare più di tanto e di comportarsi da professionisti. Però non è facile. Anzi, i giocatori del Bari si sono comportati in modo dignitoso e bisogna fare solamente un applauso ai ragazzi e di quell'anno che, nonostante tutti i problemi, sono riusciti quasi arrivare alla zona play-off. E questo ti fa onore, Gigi, perché hai detto delle cose da grande ex calciatore, da chi sa bene che alcune difficoltà, il calciatore che ama la piazza e il giocatore che ama la sua professionalità, deve andare avanti. E ti fa onore parlare così di alcuni tuoi colleghi. Tornando un attimo a Lecce, tu hai detto che il Lecce era un outsider. Si poteva pensare che altre squadre avessero più chance, più possibilità. Anche qui, oltre ai grandi meriti della società, c'è anche il grande merito di un allenatore che, nonostante non sia anzianotto e un classe 76, ha avuto la forza, la pazienza, la perseveranza di credere in un gruppo di giocatori che inizio anno non era dato ai primi posti. Mi riferisco a Oliverani, entrato anche in orbita Lazio prima del rinnovo di Inzaghi. Sì, hai perfettamente descritto la situazione e nessuno qui a Lecce si immaginava che Lecce avesse potuto fare una cosa del genere, non un campionato del genere. Poi quando è arrivato gennaio, che sono arrivati anche qualche giocatore, allora si è capito, perché poi dopo il girone di andata si conoscono tutte le squadre e quindi si è capito lì che si poteva perlomeno tentare il grande salto. Ripeto, questo grazie anche alla società, al di là dei meriti che quelli sono scontati, io non li dico ma quella è una cosa scontata dell'allenatore e dei giocatori, perché se non ci fossero loro non ci sarebbe stata questa promozione. Però alla base di tutto c'è la serietà e la serenità, la serenità di una società che ti fa lavorare bene. E poi per Oliverani, giustamente come hai detto te, è stata una vetrina molto importante per lui, ma anche per molti giocatori del Lecce e molte squadre, soprattutto di Serie A, hanno puntato gli occhi su questi. Adesso proviamo a concentrarci su un tuo quasi conterraneo, che ha fatto una scelta particolare. Mi riferisco ad Antonio Conte, ora parte il sorriso di Gigi, vedi? Si vedono le fossette, guarda, è partita la ridarola. Allora, io mi sono sentito con un tuo ex compagno, non di squadra, ma di Serie A, che è anche amico di Antonio. Non è moriero, eh? Attenzione, non è moriero, quindi togliamo già. E mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere, non dirò il nome, poi te lo dico magari in privato. Sono convinto che Antonio ha scelto l'Inter, uno perché è una grande società, due perché alla Juve avrebbe avuto troppa, troppa pressione di superare quel record già raggiunto. All'Inter in qualche modo tornare a vincere qualcosa che può essere anche non il campionato, ma che può essere la Coppa Italia, può essere magari un trofeo che vinci al secondo anno per un ottimo piazzamento, potrebbe già farlo rientrare in una storia buona. Alla Juve, se arrivi e fai un secondo posto, se vinci solo la Coppa Italia, hai fallito. Cosa pensi di questo? Guarda, allora Antonio ha fatto una cosa che penso avrebbero fatto tutti gli allenatori del mondo, io in persona. Stiamo parlando di un allenatore in questo momento secondo me uno dei più bravi al mondo. Lui ha scelto l'Inter perché comunque è una società, non dico all'altezza in questo momento, però lo può diventare della Juve perché è una società nuova, a differenza di molte società, ha un budget forte economicamente, cosa che molte società in questo momento, magari anche le squadre più blasonate dell'Inter non hanno e ha fatto non bene, benissimo ad andare all'Inter perché lui comunque al dia di tutto è un professionista serio. Non dimentichiamoci che lui ha fatto tre anni alla Juve, vinto tre Scudetti, non con una squadra, con una squadra che, parliamoci chiaro, l'avesse avuto quest'anno anche Allegri, non avrebbe mai vinto uno Scudetto perché è facile vincere i campionati quando ti mettono a disposizione dei fenomeni e invece con Antonio è arrivato alla Juve quando l'anno prima erano arrivati i settimi in classifica. Ha dato un'impronta societaria, un'impronta di gioco e i tre anni ha vinto tre Scudetti. Però va anche detto Gigi, va anche detto che quello che ha fatto Conte è straordinario ed è irripetibile. Sono d'accordo con te per distacco forse il migliore allenatore italiano in circolazione, però consentimi di dire che quello che ha fatto la Juve poteva farlo solo alla Juve. E poi ti dico una cosa, io sono d'accordo con te, molti avrebbero accettato. Sai qual è l'unica cosa che non va giù al popolo juventino, bianconero in genere? Come fa un allenatore che il giorno del 5 maggio prende in giro Materazzi, noi oggi ridiamo e qualcuno sta piangendo e Materazzi è nato a Lecce, una persona che in televisione ha detto che gli Scudetti della Juve li ha vinti sul campo, la Juve di Capello, come fa a presentarsi lì? Cioè Gennaro Gattuso, che è un amico ed un grande veramente uomo che anche tu conosci, forse anche meglio di me, io ho la fortuna di averlo conosciuto e ogni tanto ci sentiamo per delle interviste, ha detto io non ne faccio una questione di soldi, io non potrei mai andare altrove, per me il Milan è una storia d'amore. Io sono d'accordo con quello che tu dici, ma contro Conte vanno le parole che ha detto il 5 maggio, la retrocessione in Serie B della Juve e quella fascia di Capitano tolta a Del Piero perché lui era la Juve. Solo questo voglio dire, ma sono d'accordo con te. Vabbè a volte nella vita, tra virgolette, si sbaglia anche, e poi secondo me non sono nemmeno sbagli, che senza peccato scagli la prima pietra, ma stiamo parlando di penalità, cioè di niente, del niente quasi, capito? No, io volevo solo darti l'idea del tifoso, capito? Ti faccio un esempio, Gigi, tu sei amato a Bari e a Lecce, non hai mai fatto dichiarazioni contro e hai sempre dato l'anima. Io questo voglio dire, ecco, non per far paragoni, però il tuo caso è eloquente. Tu sei l'unico che ha unito due piazze contro. Sì, ho capito, però nella vita ci sono dei momenti, no? Certo, no, per carità. Che uno si lascia andare assolutamente. Magari quante cose si pensano, cioè si dicono e non si pensano. Quindi non mi sembra il caso di crocifiggere Antonio per questi fatti, capito? Lui è un professionista serio, l'ha sempre dimostrato. Quante volte molti giocatori baciano la maglia e poi l'anno dopo sono in un'altra squadra oppure amore eterno e poi che succede? Dopo un anno o due cambiano squadra per magari per l'aspetto economico. Oppure c'è gente, al contrario, bandiere, no? dopo 18 anni, cosa che è successa a De Rossi, gli danno il bel servito, buonasera e grazie, a noi non gli interessi più. Con un semplice, quasi telegramma. Quindi le possiamo vedere da ambedue le parti. No, no, io sono d'accordo con te. ci tenevo solo a riportare una diciamo forma di amore che in questo momento non è più amore da parte di tanti tifosi che ad esempio dicono Nedved, come ha dichiarato, poteva andare all'Inter è sceso in Serie B. Ma io sono d'accordo con quello che tu dici, è solo che tanti tifosi non l'hanno presa non l'hanno presa bene neanche all'Inter. Sono convinto che alla terza vittoria si dimenticano tutto. Quello assolutamente sì. Ma è il bello proprio del calcio e della vita che ognuno la può pensare in modo suo. Certo. Rimanendo sempre persone educate dove c'è l'educazione c'è tutto. Io sono sempre di quell'idea. Ognuno può sempre esprimere la propria unione. Assolutamente. Quindi il guai se fossimo tutti sulla stessa onda di pensiero è giusto che ognuno abbia le proprie opinioni. Assolutamente. Giusto sbagliate poi lascio nel tempo che trovo. Gigi mi dici solo qual è un segreto per rimanere così dopo aver appeso gli scarpini al chiodo e avere davanti ad un otto di nascita un sei. Cioè come si fa Gigi Gigi ti vogliamo bene lo sai qual è il segreto? No praticamente il segreto è semplicissimo guarda te lo dico di una semplicità assurda siccome a me piace mangiare tanto cioè io sono uno che che la sera il vino la pasta i dolci il pesce mangio tanto quindi l'unico modo per tenermi in forma è andare a correre ho appeso gli scarpini con le scarpe bullonate e ho preso quelle da ginnastica e quindi tutte le mattine anche in palestra che per me è un sacrificio ve lo posso assicurare perché poi dopo tanti anni che hai fatto questo mestiere che ti sei allenato quotidianamente puoi arrivare a 50 anni e continuare a fare non è semplice perché poi anche al di là fisicamente pure mentalmente non è semplice però lo faccio perché mi piace mangiare quindi sembra una cosa assurda ma lo è però Gigi noi ti vogliamo bene anche perché tu fai sempre coming out non è che dice mi tengo lui mangia ha fatto coming out mangia e quindi deve correre altrimenti sono guai praticamente sto facendo ho fatto tutto quello che non potevo fare quando giocavo e mangio tutto quello che non potevo mangiare all'epoca quindi mi sto facendo diciamo alla grande quindi parliamoci chiaro cartellate la copeta la copeta la copeta durante le feste quelle sì non possono mancare il riccio dell'amore che sarebbe la mandorlina tostata con lo zucchero ma ti faccio venire fame e ti tocca correre già dato stamattina ho la coscienza a posto allora Gigi io ti ringrazio ti saluto e ti rinnovo i complimenti anche per questa vena artistica che è venuta fuori perché dallo scorcio di masseria che abbiamo visto possiamo dirti che anche questa tua nuova passione sta dando i suoi risultati ti ricordo che un altro difensore Jonathan Zebinat è innamorato dell'arte si è fatto trascinare da capello solo che si è fatto trascinare purtroppo così tanto che ha aperto una galleria che poi non è andata molto bene però si vede che i difensori a furia di fermare fuori classe si sono innamorati dell'arte di quei fuori classe guardate che bella casa complimenti ti aspetto alla prossima e colgo l'occasione per salutare tutti quanti quelli che mi conosco soprattutto i tifosi baresi i tifosi leccese e un grande bocca al lupo per il prossimo campionato un abbraccio grande un abbraccio grande a Gigi Garzia alla prossima a Gigi Garza a Gigi Garza